Paolo Iacone, Presidente dell'Associazione Castellarte al Teatro Comunale di Atri, avete in cantiere due eventi per coinvolgere le scolaresche, gli studenti di Atri, in particolare delle scuole dell'obbligo. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di due iniziative musicali. La prima è la selezione di arie di un'opera lirica di Donizetti, la Rita, un'opera comica alla francese, molto divertente, molto accattivante per avvicinare i ragazzi a questo linguaggio un po' lontano dal loro tempo. È un'opera abbastanza breve per non farla diventare noiosa, quindi è anche molto comprensibile. Gli alunni interessati sono dell'intera provincia di Teramo, da Teramo fino alla costa, insomma. La seconda iniziativa invece è per il 6 di marzo, sempre in orario mattutino, in orario scolastico. Invece una grande orchestra di fiati, i musici lotariani, che presentano un repertorio di musiche da film, musiche anche di cartoni animati, quindi per far vedere proprio dal vivo come certe musiche vengono costruite, vengono fatte. Quindi c'è anche una parte didattica e non solamente una parte di ascolto. Ecco, diciamo, è un modo buono per avvicinare gli studenti al mondo della musica, musica anche di qualità. Musica di qualità. Non è la prima volta che facciamo queste iniziative, è al terzo anno. E in passato abbiamo avuto dei risultati sorprendenti, perché di solito uno pensa, sì, ma l'opera è una cosa noiosa. Invece no, anche gli stessi attori e cantanti si sono ricreduti per l'attenzione e per l'interesse che ha suscitato insomma un'iniziativa per gli alunni. Grazie.